Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questo video in collaborazione con Saver Equipment. Saver Equipment è un'azienda italiana che produce attrezzature in legno sia per palestre che per privati. L'attrezzatura che ho scelto io è stato un box pliometrico utilissimo nella preparazione atletica generale. Io lo utilizzo sia nel powerlifting e per alcuni esercizi come possono essere il box squat e poi lo utilizzo nella mia preparazione a 360 gradi. Chi pratica crossfit sicuramente lo conoscerà. Con il box pliometrico ragazzi potete andare a fare tantissimi esercizi non solo per la parte bassa ma anche per la parte alta. E comunque loro come azienda non producono solo box pliometrici. Perché ho scelto questa azienda? Per due grandi motivi. Perché era un'azienda italiana che produce attrezzature di altissima qualità con per esempio il box pliometrico ragazzi arriva a casa già montato con una colla e delle viti speciali che rendono il tutto ancora più saldo quindi vi permettono di allenare in sicurezza. E il secondo motivo ragazzi è che il prodotto è personalizzabile. O come ho fatto ieri ragazzi con un semplice logo, ho messo il mio logo sul prodotto oppure potete personalizzare anche le misure del prodotto. Quindi vi creano il prodotto in base alle vostre esigenze. Se siete interessati comunque a queste tipologie di prodotti state allestendo la vostra home gym o che sia per una palestra vi lascio tutti i link in descrizione del loro sito e dei loro canali Instagram e Facebook dove potete contattarli. Comunque su sito ragazzi vedrete la panoramica generale dei prodotti che creano. Nel video di oggi ragazzi vedremo alcuni esercizi che possiamo fare per la nostra preparazione con un box pliometrico. Non solo per la parte bassa come ho già detto ma anche per la parte alta. Non solo per la parte bassa come ho già detto non solo per la parte bassa come ho già detto one Grazie a tutti 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 Grazie a tutti